Splendida giornata, siamo pronti per partire per il Giro delle Fiamme, Marco Questa è la partenza Ovviamente piove, affanculo, Marco, saluta Marco, giornata stupenda Top, Giro delle Fiamme Marco, il fantastico clima belgo Allora, prima sosta, siamo a Brora soddisfatti, cioè vado molto reddo e Marco mi aspetta Però comunque soddisfatto, abbiamo anche le caramelle gommose, questa è l'atmosfera Kilometro 30, poverè, 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 fantastico il poverè Andre, finalmente sembra che abbia smesso di piovere Marco, un pedala, dal tempo, i famosi paveri in salita, vabbè, questo non è il più duro, eh Perché ci sta altri con una pendenza del 20, questo siamo al 13 Marco, mi ha seminato, ma io non moro Allora, siamo alla seconda pausa, da qui in poi tutti i muretti Marco è stato in forma, nemmeno ha sudato Questa è la seconda pausa Parte prima, la seconda pausa, la tappa Siamo a, adesso non ce la faccio, a 43 km, scusate Questo è il paese di Go, comunque è carino C'è là Gian Marco E vediamo come va, perché lui sostiene che questa è la parte più bella di tutto il percorso, quindi c'è i vari muri Sì, vediamo Bella giornata piosa, ovviamente Oh, di nuovo Paver, Paver si è il bagnato Marco è sparito, è rimasto solo, va bene così Vieni sulle Fiandre, no? Che fa una bella esperienza Certo, di pioggia Possiamo essere su uno dei muretti più famosi del Giro delle Fiandre Marco tu ce la fai a girate a salutare, top Oh, finalmente inizia il Paver Sennò senza Paver, non è Giro delle Fiandre E andiamo E' finito il Paver Siamo venuti su questo, Pango e Paver Ce l'abbiamo quasi fatta Fantastico, finito Abbiamo finito, non ci arriva più nulla Ho tutto bagnato, ma abbiamo finito Grandi Questa sarebbe la piazza centrale del paese Però sinceramente non c'erano più fargli le reali che il paese sia Il paese è da dove parte il Giro delle Fiandre Adesso lo chiediamo a Marco Come si chiama questo paese Marco? Udenag Udenag Lo stand finale Grazie 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 Grazie